In Calabria ad oggi sono stati effettuati 31.802 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.097, più 1 rispetto a ieri, quelle negative sono 30.705. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro 48 in reparto, 2 in rianimazione, 74 in isolamento domiciliare, 59 guariti, 31 deceduti. Cosenza 26 in reparto, 1 in rianimazione, 308 in isolamento domiciliare, 86 guariti, 27 deceduti. Reggio Calabria 25 in reparto, 3 in rianimazione, 143 in isolamento domiciliare, 63 guariti, 16 deceduti. Crotone 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare, 27 guariti, 6 deceduti. Vibo Valencia 1 in reparto, 54 in isolamento domiciliare, 13 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi, un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro e di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto è stato ricoverato un paziente proveniente da Cosenza, le persone decedute vengono indicate nella provincia di Provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.548 così distribuiti. Cosenza 1.231, Crotone 1.640, Catanzaro 1.828, Vibo Valencia 282, Reggio Calabria 1.567. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.590. Nel conteggio sono comprese anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Si conferma il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 290, mentre domenica c'era stato un incremento di 256 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono salite a 27.359 le vittime, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 333. 68.941 sono i guariti dalla coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L'aumento ieri era stato di 1.696. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia in intensiva. Ad oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Di questi, 655 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare. L'Italia supera la soglia dei 200.000 contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505 con un incremento rispetto a ieri di 2.091. L'aumento ieri era stato di 1.739. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato durante la notte la legge che prevede la creazione dell'azienda ospedaliera unica di Catanzaro attraverso l'integrazione dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio con l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. La legge punta a superare i profili di incostituzionalità di una precedente normativa sull'integrazione già impugnata dal commissario ad acta della sanità calabrese. In particolare il nuovo articolato prevede che al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è integrata con l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro e assume la denominazione di azienda ospedaliera universitaria Mater Domini Pugliese Ciaccio e che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con protocollo d'intesa sottoscritto dal rettore dell'Università degli Studi Magna Grecia, dalla commissario ad acta e dal presidente della Regione Calabria sono definiti i rapporti tra Regione Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. C'è ancora molto da fare, è stato un altro passaggio della politica che adesso necessita di una verifica da parte della struttura commissariale e del tavolo a Duce, poi da una valutazione del Consiglio dei Ministri e siamo fiduciosi, perché siamo fiduciosi? Perché io ritengo che l'integrazione non è un'opzione, è un obbligo della politica se vogliamo bene a questa terra. In Calabria, nell'area centrale della Calabria, mediante l'integrazione si può determinare l'istituzione della più grande azienda sanitaria calabrese, forse del meridione, che serve a Catanzaro, serve all'area centrale, ma ritengo serve a tutta la Calabria, non solo in termini di assistenza, perché poi questa nuova azienda è integrata pure con la formazione e con la ricerca che diventi la nuova azienda unica, Pugliese Mater Domini, veramente il centro di una nuova sanità dalla quale ripartire e ripartire tutti insieme dopo questa gravissima emergenza sanitaria del Covid-19. Barando le modifiche alla legge sull'integrazione tra le due aziende ospedaliere di Catanzaro, la Pugliese Ciaccio e la Mater Domini, l'Assemblea di Palazzo Campanella ha posto le basi per superare i rilievi costituzionali e procedere al processo più importante per il sistema sanitario del capoluogo e dell'intera Calabria. Ringraziando il Presidente del Consiglio regionale, la Presidente della Giunta regionale e l'intera Aula che ha votato all'unanimità queste modifiche che fissano tempi certi. Per l'integrazione pongono le basi per arrivare finalmente al risultato auspicato da tutti e sul quale stavo spingendo da anni, ha detto Abramo. La pandemia ha messo la sanità calabrese di fronte a una nuova sfida e l'integrazione è un aspetto essenziale per rispondere a questa sfida. Un fondo da 3 milioni di euro a sostegno delle famiglie e degli studenti calabresi fuori sede rimasti bloccati per l'emergenza coronavirus è quanto prevede un emendamento alla legge di stabilità regionale 2020 approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'emendamento è stato presentato dai consiglieri regionali Neri, Pietro Paolo, Sainato, Morrone, Minasi, Arruzzolo, Esposito e Graziano. I 3 milioni di euro provengono dall'avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale. Il dipartito registrato in Consiglio regionale ha messo in risalto distorsioni già note della macchina regionale. Il Presidente della Giunta, Iole Santelli, ha sfondato una porta già aperta da tempo affrontando questioni già discusse e mai risolte. Lo scrivono i segretari generali di CGL Calabria, Angelo Sposato, di CISL Calabria Tonino Russo e di Wil Calabria Santo Biondo. Nessuna novità dunque. Da diversi anni proseguono Sposato, Russo e Biondo. Denunciamo unitariamente le strutture del bilancio regionale evidenziate dalle numerose relazioni della Corte dei Conti. Un bilancio ingessato, ombroso, che ha bisogno di essere messo in ordine. La politica regionale ha scoperto l'acqua calda. Aspettiamo che le intenzioni di rinnovamento per il momento annunciate si risolvano in azioni concrete di mutamento. Se a queste intenzioni seguiranno i fatti, siamo pronti a dare un contributo per il rinnovamento della Calabria. Per la nostra regione, spiegano i segretari di CGL CISL e Wil, quello attuale è un momento particolarmente delicato che necessita degli sforzi congiunti di tutte le istituzioni per raggiungere l'obiettivo di una svolta necessaria ed epocale. Negli ultimi due giorni abbiamo definito il campione per il test seriologico con Istat e Inail fino a individuare 150.000 cittadini di visi per categorie che a titolo gratuito vi si sottoporranno. Distribuiremo i test alle singole regioni che hanno già i loro laboratori accreditati, comunicheremo insieme dove sono nel più breve tempo possibile, faremo i test, poi verificheremo per la seconda ondata di test e valuteremo se calmerare anche il prezzo del test per ora non è necessario. Così il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile. La presidentessa Iole Santelli e il commissario Saverio Cotticelli chiariscano come e in quali tempi intendono far ripartire con riferimento alla sanità pubblica della Calabria la specialistica ambulatoriale e i servizi ospedalieri ancora fermi. Non è possibile lasciare tutto in mano ai privati, di fatto favoriti da recenti provvedimenti regionali sull'emergenza. Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia della Commissione Sanità della Canera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già riassunto le misure e le tappe della cosiddetta fase 2, perciò è indispensabile che subito Santelli e Cotticelli si coordinino per riattivare pienamente la sanità pubblica anche ascoltando gli ordini provinciali dei medici. Finora, così il deputato del Movimento 5 Stelle, i calabresi hanno dovuto subire il caos determinato da un'ingiustificabile sovrapposizione dei poteri e da ostinati arbitri da parte dei vertici di alcune aziende del servizio sanitario regionale. Con il decreto appena approvato diamo liquidità per 400 miliardi e una potenza di fuoco, così il Premier Conte era il 6 aprile, ma ancora oggi, passate tre settimane, l'erogazione alle aziende è ancora lontana. Oggi più che mai c'è la necessità di far corrispondere gli annunci alla realtà, senza suscitare false aspettative. La situazione è drammatica e si corre il rischio concreto del crollo del mondo produttivo ed in particolar modo delle piccole imprese. Basta chiacchiere. Ad affermarlo Pino Franzè, membro della direzione regionale di Lega Cop Calabria. Tra le voci del bilancio approvato in Consiglio regionale c'è una voce specifica per Sibari e lo stanziamento di 100 mila euro annui per le annualità 2020, 2021 e 2022, destinato al finanziamento delle opere di manutenzione del canale Stombi. La notizia anticipata dall'assessore regionale Gianluca Gallo viene commentata favorevolmente dal circolo cassanese della Calabria che vuoi guidato da Giuseppe Pescia. Su proposte dell'assessore Gallo spiega Pescia, la regione ha stanziato in bilancio fondi che si riveleranno essenziali per garantire con costanza e puntualità la navigabilità del braccio d'acqua che lega al mare e aperto le darsene dei laghi di Sibari. Si incrementa così notevolmente la dotazione finanziaria riservata alla manutenzione del canale. Maggioranza sfilacciata e in piena confusione, lo afferma il capogruppo del PD Domenico Bevacqua dopo il dibattito sul bilancio ieri in Consiglio regionale. A memoria, prosegue, non si era mai verificata una situazione paradossale come quella avvenuta ieri in aula. È andato in scena l'oggettiva difficoltà della maggioranza alle prese con discussioni pletoriche e inconcludenti ma con il solo obiettivo per i consiglieri di centrodestra di ottenere esclusivamente qualche prebenda politica post-elettorale senza alcun riguardo per gli interessi generali della Calabria. Per Bevacqua, a un certo punto del dibattito, si chiede una sospensione per trovare una quadra politica all'interno della maggioranza che stava brancolando nel buio evidentemente per trovare accordi e compromessi in sedi e appartate alla faccia dell'urgenza della Calabria di avere risposte efficaci e trasparenti. Stamattina mi sono recato alla Ciambra, il quartiere ghetto di Gioia Tauro, con il prefetto Massimo Mariani e il sindaco Aldo Alessio per donare ai bambini che li risiedono libri per la loro formazione. Lo afferma il garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria Antonio Marziali. Libri di favole di livello educativo utile per l'infanzia e l'adolescenza spiega, in un quartiere dove ancora oggi, nonostante i passi avanti, è lontano una condizione di normale vivibilità. I libri che abbiamo loro donato stamattina non sono solo strumenti didattici a concluso Marziali, ma aiutano a sognare ed il sogno è l'anticamere del progetto. Noi siamo con il garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria Antonio Marziale. Non nuovo Marziale ha queste iniziative, questa volta ha riguardato un altro quartiere periferico, Ciambra, quello di Gioia Tauro. Io alla Ciambra ho dedicato molto di me stesso, quei bambini non avevano la strada, ora ce l'hanno, non avevano le foglie, ora ce l'hanno. Non avevano l'illuminazione, ora ce l'hanno. Il 70% di loro non andava a scuola, oggi la dispersione scolastica è allo 0%, grazie alle iniziative di questo garante. E lo faccio perché sono bambini che non hanno colpa, hanno diritto a vivere una vita dignitosa come tutti i cittadini italiani. Lì la situazione è drammatica, oggi mi sono presentato con dei libri di favole, dei classici di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, era come aver visto chissà quale grandissimo regalo per loro e in effetti è sempre un bel gran regalo. Perché il libro aiuta i bambini a sognare oltre che imparare e dai sogni nasce poi il progetto di vita. Qualcuno di loro domani sarà in condizione di chiedere ai propri adulti di riferimento, ma che vita mi avete fatto fare fino ad oggi. Quindi è un gesto ulteriore di attenzione verso quel quartiere tristemente famoso in tutto il mondo. In occasione della giornata nazionale dedicata alla salute della donna, ovvero il 22 aprile, l'Associazione Italiana Donne Medico ha lanciato la campagna Donne e Salute al tempo del coronavirus, attivando il numero verde 800 189 441, rivolto a tutte le donne per offrire un servizio e ricordare l'importanza della cura, della prevenzione, della diagnosi e della ricerca. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Caterina Ermio dell'Associazione Italiana Donne Medico. Sì, abbiamo ritenuto opportuno tutelare la salute delle donne, chiaramente mettendo a disposizione noi come società scientifica che si occupa proprio della salute della donna, la promozione della salute della donna, sia in ambito di screening che in ambito di terapia, era il momento proprio di offrire il nostro servizio come medico di tutte le specialità, perché l'Associazione Italiana Donne Medico è una società multidisciplinare, quindi noi abbiamo l'opportunità di rispondere ad ogni tipo di domanda in ambito cardiologico, piuttosto che neurologico, piuttosto che internistico in generale e quindi spaziare un po' in tutte le domande che le donne in effetti si pongono in questo momento difficile, che è il momento Covid. Quindi abbiamo fatto questa campagna organizzandola come FISME, quindi Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche, che hanno ritenuto che la nostra associazione fosse la più idonea a gestire proprio la giornata della salute della donna che è il 22 aprile, che è stata istituita dal 2015, ma la cosa importante è che noi abbiamo pensato che sicuramente una giornata non avrebbe risolto il problema delle donne e della salute delle donne e allora abbiamo pensato con tutte le socie italiane di dare una disponibilità, quindi da Trieste a Trapani ci sono dottoresse, sono più di 100 a disposizione, che daranno le risposte non solo per quella giornata, ma in pratica per sei mesi e poi abbiamo intenzione chiaramente di recuperare questi dati, quindi in sei mesi raccogliere un po' il dato e capire qual è in effetti l'esigenza, perché il problema è anche individuare degli ambiti che possono poi essere di interesse scientifico e quindi orientare anche gli studi su alcune prospettive diverse oppure dinamiche diverse e una prospettiva proprio di differenza, proprio per arrivare alla qualità della terapia. Ci sarebbero alcune persone iscritte nel registro degli indagati nell'indagine che da conoscitiva si è trasformata in penale, avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza sulla vicenda di Villa Torano, la RSA di Torano Castello, dove sono verificate alcune morti sospette e più di un centinaio di casi di contagio da coronavirus. E quanto si apprende da fonti interne alla Procura Cosentina? I reati contestati ai presunti indagati potrebbero essere quelli di epidemia colposa e omicidio colposo. Per ora comunque sulla vicenda vige il massimo riservo. In seguito alle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino ha sospeso il Consiglio Comunale di Girifalco nelle more dello scioglimento ai sensi di legge. Lo rende noto la prefettura di Catanzaro. Costanza Pino è stata nominata commissario per la temporanea gestione del Comune di Girifalco al fine di garantire la regolare gestione dell'ente locale. Una delegazione del governatore del distretto Lions 108 Nicola Clausi, formata dal professore Francesco Perticone, dal dottore Francesco Pugliano e dall'avvocato Roberta Capri, ha consegnato al reparto di terapia intensiva delle Policlinico dell'Università Magna Grecia di Catanzaro direttamente nelle mani del primario professor Longhini e dalla presenza dell'erettore professor De Sarro un ventilatore polmonare. Quello di Germaneto è il terzo ventilatore polmonare donato al distretto 108, segue infatti i due già consegnati alle Asle di Napoli e di Potenza. L'encomiabile iniziativa, fortemente voluta al governatore Nicola Clausi, fa parte di un progetto molto più ampio, messo in atto per affronteggiare l'emergenza Covid-19 e che ha visto la distribuzione di oltre 600 mascherini attraverso i clubs dislocati tra Calabria, Campania e Basilicata, nonché donazioni a sostegno delle fasce maggiormente colpite da questa emergenza, per un totale di 330 mila euro. Ha raggiunto la moglie che era sul posto di lavoro tentando di investirla con l'auto, poi l'ha minacciata con un'accetta presa dal bagagliaio della vettura, successivamente ha minacciato di uccidersi. I carabinieri della sezione radiomobile di La Messia Terme della stazione di Nocera e Terinese intervenuti hanno perciò tratto in arresto un cinquantenne per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria moglie. I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì. L'intervento dei militari dell'arma, allertati dal datore di lavoro della donna, ha evitato il peggio. Successiva certamente hanno permesso di dimostrare che l'episodio è stato l'ultimo capitolo di comportamenti minacciosi e aggressivi tenuti dall'uomo nei confronti della moglie già da diversi mesi e che avevano costretto la donna a lasciare la casa familiare. L'uomo è adesso nel carcere di Catanzaro.